Peraltro è uno dei tre ministri del Movimento 5 Stelle che ha superato indenne la prova del cambio di governo. Era ministro con il governo Conte II, pubblica amministrazione, e rimasta ministro con il governo Draghi. Oggi si occupa di giovani e di giovani. Vorrei partire con lei. Protagonisti, e mi viene da dire anche loro malgrado, di una campagna vaccinale in cui prima sono stati coinvolti negli Open Day, AstraZeneca, anche i più giovani, 18 anni, e poi con un'indicazione che ha rovesciato la strategia vaccinale, gli si è detto no, AstraZeneca solo per i 60 anni. Che idea si è fatto? Ed è stato rispettoso nei riguardi dei giovani, secondo me. Partiamo dalla premessa che chiaramente nessuno ha voluto mettere in pericolo i giovani, anzi, io credo che su di loro si sia fatta molta strumentalizzazione anche durante i momenti della restrizione nei quali ogni volta veniva violato anche solo di un minimo il coprifuoco, gli spostamenti, si è sempre posta l'attenzione sul fatto che fossero i giovani a non rispettare o a mettere in pericolo, cosa che effettivamente anche loro hanno rappresentato più volte chiedendo maggiore sensibilità da parte degli adulti nei loro riguardi, anche perché hanno subito il loro malgrado. Devo dire delle restrizioni che chiaramente nell'adolescenza sono ancora più difficili da riuscire a rispettare, una didattica a distanza che sicuramente non è stata facile. Dall'altro lato chiaramente li abbiamo chiamati alla campagna vaccinale, così come abbiamo chiamato tutta la popolazione, con l'obiettivo di riuscire a tutelare la salute generale. Poi è chiaro che le indicazioni che sono state date nella passata settimana da parte del Comitato Tecnico Scientifico sono state immediatamente recepite da parte delle regioni, pertanto si è riadeguata la linea rispetto a quelle che potevano essere viste. Si dice che saranno i maggiori beneficiari del Next Generation EU, del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza. Sono anche state le vittime predilette di questa crisi pandemica. Le perdite di lavoro riguardano soprattutto i giovani, perché molti giovani non hanno potuto godere di quel blocco dei licenziamenti di cui abbiamo parlato a lungo. Anzi, sono stati in tanti casi costretti dalle maglie di un provvedimento caro del Movimento 5 Stelle, il decreto dignità che impedisce il rinnovo oltre 24 mesi dei contratti a tempi determinati. Non crede che sia arrivato il momento di ripensare strumenti che magari valevano prima della pandemia e in questo momento mostrano tutti i loro limiti? Personalmente non credo che il limite sia legato a quel tipo di decreto. Si sono chiaramente amplificate delle problematiche che c'erano già prima in termini occupazionali non solo dei giovani ma anche delle donne perché sappiamo che la maggior parte di chi ha perso il lavoro sono proprio ragazzi e ragazze, perché di questo stiamo parlando, e donne. Quindi quello che si tratta di rivedere è proprio tutta la strategia in termini di ammortizzatori del lavoro, ma su questo si era già iniziato un lavoro col precedente governo, chiaramente la riforma verrà portata avanti con questo, anche a valere dei fondi del Next Generation. Però credo che principalmente vada fatto un ripensamento sull'importanza del supporto ai giovani sotto tutti i punti di vista e con degli interventi che siano di ampio respiro. Si ripensa tutto, ma non nel decreto dignità o nell'ambito di un ripensamento complessivo si può ripensare anche a tutti. No, non intendevo con questa rigidità, nel senso che le politiche giovanili vanno viste sotto tutti i punti di vista. Come ha detto lei, il Next Generation è il più grande investimento proprio sulle nuove generazioni in termini di digitalizzazione, di ottica green e di transizione ecologica che cambierà anche le prospettive occupazionali, tutti gli investimenti sulla scuola, sulla formazione e sull'orientamento sono destinati a loro e credo che anche in termini di politiche attive del lavoro si possa fare di più soltanto avendo un approccio che è quello orizzontale. Di giovani a parlare.